Naike Rivelli e Ornella Muti, pensate che saranno, da come sia il risultato, al festival di Sanremo 2024 che proprio vedrà la luce tra pochissime ore, non tante. E pensate che entrambi, mamma e figlia, stanno seguendo con viva attenzione la protesta dei agricoltori, dei contadini. E sembra proprio che saranno in modo 2024, Ornella Muti e la figlia Naike porteranno avanti la protesta dei agricoltori. Facendosi portavoce di questa battaglia lunga e dura, probabilmente anche o meglio soprattutto a livello musicale, cioè grazie anche alla canzone che le due probabilmente porteranno in ascolto, o comunque proporranno. Vi ringrazio in primis per la visione, in segundis per l'ascolto, insomma tutto pronto per Sanremo, mancano un po' di ore, sono curioso di vedere Ornella e Naike quello che faranno proprio al festival della canzone italiana 224. Iscrivetevi, se vi va al canale, commentate. Ciao a tutti e una buona sera da voi.